Sabato 12 giugno a Napoli presso l'Istituto dei Salesiani Don Bosco in via San Giovanni Bosco 8 si è tenuto il congresso regionale UCSI Unione Cattolica Stampa Italiana della Campania per rinnovare i componenti del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2021-2024. Dopo la relazione del presidente uscente Giuseppe Blasi, giunto al termine dei due mandati e non più ricandidabile, gli interventi dell'assistente spirituale UCSI Campania Don Tonino Palmese e di alcuni soci. Si sono svolte le votazioni. Sono stati eletti quali i componenti del nuovo consiglio direttivo dell'UCSI Campania per il quadriennio 2021-2024 i soci Mario Aurilia, Rosanna Borzillo, Laura Guerra, Carlo Lettieri, Francesco Manca, Rosaria Morra, Antonio Pintauro, Guido Pocobelli Ragosta, Elena Scarici. Il più votato è risultato il consigliere Francesco Manca, già segretario dell'UCSI Campania e presidente della Fondazione Nazionale di Studi Tonoliani della Campania. Il neoconsiglio direttivo eletto nella prima riunione procederà alla nomina del presidente e delle nuove cariche sociali. L'UCSI rappresenta nel panorama informativo nazionale una realtà importante che, ispirata ai valori del cattolicesimo e della dottrina sociale della Chiesa, punta a formare e diffondere attraverso i mezzi di comunicazione e all'interno delle stesse redazioni giornalistiche i valori etici del rispetto della verità e della dignità umana. I suoi soci si impegnano a svolgere la professione ancorati a questi principi affinché l'informazione sia sempre ispirata alla trasparenza, alla correttezza e soprattutto al servizio della verità.